Il quarantesimo colloquio ebraico cristiano di Camaldoli vuole soffermarsi a riflettere su come ebrei e cristiane affrontino la differenza di genere, i diversi ruoli attribuiti a donne e uomini all'interno della comunità di fede nei secoli, le questioni teologiche, liturgiche e tradizionali che emergono da una messa tema di questo argomento. Quest'anno il colloquio si svolge dal 4 all'8 di dicembre presso il monastero casentinese ed è caratterizzato da conferenze, momenti di scambio seminariale, incontri artistici e di preghiera. Uno spazio inoltre sarà riservato ai partecipanti più giovani. L'importante ricorrenza dei quarant'anni dei colloqui è anche occasione per riflettere sulla storia e le prospettive future di questo spazio di incontro e sulle figure di Lea Sestieri che con coraggio e competenza ha sostenuto per decenni i colloqui e di Nathan Ben Corrin, pioniere dei rapporti tra Israele e Vaticano e amico di Camaldoli. La riflessione parte da Genesi 1.27 dove si legge Ed Elohim creò Adam in sua immagine, in immagine di Elohim lo creò, maschio e femmina li creò. In questo primo racconto di Genesi l'umanità è il culmine e il capolavoro della creazione da cui scaturisce l'incarico di coltivare il giardino, cioè di portare a perfezione il creato. Adam, maschio e femmina, et selam e demut, spesso tradotto con immagine e somiglianza. La terminologia ebraica in realtà ci dice che si tratta di qualcosa di molto simile al creatore e che nello stesso tempo è distinzione e differenza. Infatti nessun essere umano in sé può essere considerato umanità, se non nella relazione con l'altro da sé, ovvero nel suo essere dono per l'altro. I testi sacri ebraici e cristiani, la liturgia e la storia delle istituzioni religiose hanno affrontato la differenza di genere, talvolta sottolineandola, talvolta evitando di tematizzarla, talaltra facendosi interrogare a fondo da questa questione. Il colloquio di quest'anno è aperto da una prolusione del cardinale Gualtiero Bassetti e vede la partecipazione tra gli altri di Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo della CEI. Grazie a tutti.